Vedo qualcosa di strano sul pettacolo, vado a controllare Per te questa cosa si chiama pizza? Certo, davvero? Tu hai il coraggio di definire una pizza? Ma la pizza? Ma la pizza? Ma la pizza? Ok, va bene Ma io il peperone verde, vado Vediamo qua, invece qua la pizza c'è C'è davvero il salpetto Ok, i lavori si procedono Lì, vediamo un artimerone La pizza sta prendendo la sua forma Mentre al comodolo Non so cosa definirla Io sarei quasi per scontarla Guarda Ah, ce l'ho fatto 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 Va bene, a questo E questa sarebbe la pizza Va bene Ma non so chi ti dice prima Ma qual è la pizza migliore? E secondo te, già al tuo impatto Qual è la pizza migliore? C'è, no, intanto che Ragazzi, fate un giro E vedete qual è la pizza migliore? C'è, no, intanto che Che ci si chiudono Che cosa si chiudono? Che ci si chiudono? Che ci si chiudono? Che ci si chiudono? Che ci si chiudono? E la pizza migliore? Che ci si chiudono? Allora, un attimo che intanto le persone decidono cosa pensano e quale dirà è quello migliore. Vabbè, intanto che aspettiamo? Intanto che aspettiamo? Il fatto che aspettiamo, Luigi, ti devo dire una cosa. Stasera, cioè, qui per te, cioè, chi è il tuo ridolo? Pasco Rossi. Ma veramente, oddio, Pasco Rossi provarlo è un po' difficile. Vediamo se ce l'hanno faccia. Perché abbiamo pensato di portarti qualcuno che per te rappresenti molto. Allora, perché il tuo ridolo è Pasco Rossi? Parla. Perché mi piace le case di Pasco Rossi. Solo per questo lo fai così. Perché Pasco Rossi? Pasco Rossi è Pasco Rossi. Quindi voi mi piace io. Allora, va bene, quindi le pizza... Le va quelle da costa che le pizza vanSet vanno infornate... Vanno testate e vanno veste in forno.